Pronti? Ok Mani aperte Due Mano in posizione di copertura Ok Una in copertura L'altra qua Come sentiamo il fischio? Uno Andrò in l'estrazione della lama Ingresso della lama Butto giù Posizione Fuori primo caricatore Secondo caricatore Posizione sparo Sicura Controllo Posizione che sia tutto a posto Apro gli occhi E' finito il lavoro Ok E' finito il lavoro Posizione Lama Sì 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 Grazie a tutti